Ferrovie dello Stato intende accelerare il piano di acquisizione di ferrovie sud-est. Il passaggio formale dovrebbe essere siglato nel giro di pochissimi giorni, senza neanche attendere la decisione del Tarlazio, che dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato da un'accordata privata. L'acquisizione dell'azienda gravemente indebitata passerà attraverso un nuovo consiglio di amministrazione, che come primo passo presenterà al Tribunale domanda di concordato preventivo. Ferrovie dello Stato garantirà la continuità aziendale e il riequilibrio di una pesantissima situazione finanziaria attraverso un piano aziendale che prevede il ricorso a procedure di ristrutturazione del debito. La soluzione individuata tiene conto anche della richiesta della Procura, che aveva chiesto il fallimento della società per perseguire i responsabili del dissesto. In questo modo sarà possibile portare a compimento l'indagine penale. La richiesta di concordato preventivo consentirà alla magistratura di contestare i reati dei quali sono accusati 15 indagati e tra questi anche la bancarotta fraudolenta. Il decreto del ministro Graziano Del Rio prevede il trasferimento delle quote societarie entro cinque giorni dal parere dell'antitrust, che in relazione all'acquisizione da parte di ferrovie dello Stato ha improvvisamente cambiato parere. I debiti complessivi di ferrovie sud-est saranno ripianati nel giro di 3-4 anni attraverso gli utili di gestione. Quanto al futuro amministratore delegato è già spuntato un nome, quello di Mariella Polla, direttore regionale di Trenitalia.